Operazione Caccia alla Spia, il gruppo anarchico FAI-FRI titola così la rivendicazione dell'attentato al quotidiano La Stampa di Torino. La firma dell'organizzazione è in calcio alla lettera recapitata questa mattina alla sede del secolo XIX di Genova. Nel documento la Federazione Anarchico e Formale, fronte rivoluzionario internazionale, rivendica i due ordigni esplosivi arrivati due giorni fa al giornale torinese e a un'agenzia privata di investigazione di Brescia. La stampa viene definita un fogliaccio, giornale di regime e di giornalisti, pennivendoli possibili obiettivi della guerra allo Stato e alla società che lo sostiene. Nella lettera ci sono anche espliciti riferimenti all'attentato avvenuto a Genova il 7 maggio scorso, l'agguato contro l'amministratore delegato dell'ansaldo nucleare Roberto Adinolfi, per cui due persone, Alfredo Cospito e Nicola Gai, sono state arrestate. Nella rivendicazione, che contiene anche minacce ai giornalisti autori delle inchieste sugli anarco-insurrezionalisti, si annuncia la prosecuzione di quella che il gruppo definisce campagna anarchica, iniziata proprio con la gambizzazione del dirigente. Abbiamo azzoppato Adinolfi, uno dei tanti stregoni dell'atomo, così aveva rivendicato il ferimento del manager il gruppo FAI Nucleolga. Uno dei tanti del movimento a struttura orizzontale, lo definiscono così gli esperti, senza cioè un vero e proprio vertice, ma organizzato in tanti piccoli gruppi separati. Agli arrestati per l'attentato ad Adinolfi e ad altri detenuti, gli anarchici dedicano la loro ultima azione, due pacchi bomba recapitati mercoledì e non esplosi, solo a causa del mancato funzionamento dell'innesco. Gli inquirenti commentano, ce lo aspettavamo, pensiamo non sia finita qui. Questa mattina intanto un'auto di servizio del quotidiano La Stampa è stata colpita dal lancio di pietre durante una manifestazione degli anarchici. Un gruppo di manifestanti a volto coperto si è staccato dal corteo e con il lancio di cubetti di porfido ha sfondato il lunotto posteriore dell'auto.